Lentini a caccia di illeciti, polizia si taccia al centro storico e periferia e raffica di controlli. E' costante l'attenzione posta anche sul territorio di Lentini da parte della Polizia di Stato che nei giorni scorsi ha disarticolato a seguito di una complessa attività investigativa la banda dell'escavatore che nei mesi precedenti aveva portato a termine numerosi colpi, destando preoccupazione in tutti i cittadini dell'area nord della provincia. Continuano pertanto i servizi di controllo del territorio in questa zona al fine di prevenire qualsiasi forma di criminalità per ripristinare nella cittadinanza un senso di legalità e sicurezza. In particolare agente della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Lentini insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale di Catania il 2 e 3 dicembre hanno effettuato un meticoloso controllo del territorio nel centro storico e nelle periferie della città. Il dispositivo effettuato con la predisposizione di miranti posti di controllo nelle zone sensibili del Lentinese ha consentito di identificare 123 persone e 71 veicoli. Sono stati controllati soggetti note alle forze di polizia in prossimità di locali pubblici ed esercizi commerciali.